L'ASP di Agrigento batte cassa e per cercare di recuperare soldi dagli utenti che hanno usufruito di servizi medici e sanitari ha revisionato gli elenchi degli eventi diritto all'esenzione del ticket. Risultato, tra Licata e Palma di Monte Caro sono state recapitate circa 4.000 cartelle di pagamento a chi ha usufruito dell'esenzione mentre secondo l'ASP non ne aveva diritto. Ma tra queste 4.000 cartelle di pagamento ci sono anche casi di errore commesso dall'impiegato addetto allo sportello esenzioni che con molta superficialità ha redatto i questionari. È il caso dell'Icatese Alfredo Cacciatore che da anni convive con una patologia grave alla quale per un mero errore l'ASP chiede il pagamento dei ticket. Alla base della richiesta un'errata trascrizione della motivazione per l'esenzione Cacciatore infatti ha dichiarato di essere disoccupato ma in realtà l'operatore avrebbe dovuto scrivere che l'esenzione era giustificata dalla patologia del paziente. Ho un handicap e vivo con un vento dopo l'ospedale, ventola, ventola, mi ha dato l'ospedale e per darmi la ventola mi dovevo avere l'impactità e mi ha dato la ventola. Però arrivando a un certo punto il medico dice devi andare a fare l'esenzione del ticket. Arriva all'ospedale, agli uffici dell'ospedale, cosa fa? Istintamente, ignorantamente in buona fede l'ho detto disoccupato ma io avevo la patologia che mi ha dato l'ospedale e io ero qua, adesso ve la faccio vedere, la patologia perché sono stato ricoverato l'ospedale. Sono andato dai signori sicuramente non sono medici, a Santa Maria non sono medici, saranno sicuramente degli impiegati che stanno dietro al mucchio di carta. Gli ho spiegato che l'ho fatto in buona fede ma ha risposto a una cosa che mi ha offeso tanto, uno degli impiegati, la legge non ha messo ignoranza, mi sono sentito così male, sono andato via. Quanto ne è arrivato da pagare? Circa 500 euro, da una visita che faccio normalmente che continuo sempre a fare. Per quali anni? Il 2012. Soltanto per il 2012? Soltanto il 2012, ma io ero già invalido. Quindi praticamente alla base di questo c'è, loro hanno visto, l'ignoranza mia, io faccio una dichiarazione. Non è soltanto sua l'ignoranza perché pare che queste cartelle siano arrivate a 4.000 persone, quindi 2.700 a Licata, 1.300 a Palma, tutto il distretto. Quell'impiegato che ho parlato io mi ha detto, non c'è niente da fare, lei può andare da qualsiasi parte, può andare, vado soltanto io all'ufficio dell'ospedale e si informi come la deve pagare. Ha pagato già la cartella? No. Non intende pagarla? No, non intendo pagarla. Se ci sarebbe un ufficio di poterlo denunciare, cosa denuncierei? E sono andato dall'avvocato adesso. Che non è che si può fare che in buona fede faccia una cosa, non è penale. Una patologia comunque c'è riscontrabile? No, sì, c'è riscontrabile. Sono andato di nuovo a me da un'ospedale, mi sono fatto fare, cambiare da un'esempio del ticket, mi sono fatto fare in patologia e me l'hanno fatto, me l'hanno fatto il documento in patologia. Ora è ufficialmente ciò, mi hanno fatto pagare tutte le visite che avevo fatto nel 2012, ma io vivo con un mezzo dell'ospedale, l'ospedale, la cromologia, io non respiro, per respirare adesso già mi sono stancato e devo andare a casa e mettermi l'ossigeno, se no devo scendere con la bomba con l'ossigeno. Mi sono andato all'ospedale con la bomba con l'ossigeno. Quindi più patologia di questa insomma? L'ho fatto in buona fede, mi ha detto cosa fare, mi ha detto disoccupato, io non lavoravo, e per questo la legge non ha messaggiornanza, ma dove si crede di essere? In Afghanistan? Quello l'impiegato era tolgerlo da lì, gli messero un medico che capisce che l'ammalato è ammalato, lì non sono medici, mandano a casa, ripagano e la lasciano a casa, ma lì non possono stare a parlare con l'ammalato.